Caggiano lavora in Piazza Lago, ieri incontro pubblico della minoranza per Caffaro, tante le incongruenze. Regione Campania, valorizzazione di siti culturali, entro il 27 i progetti culturali a Teggiano rinnoviamo Diano, sollecita la presentazione. Atena Lucana, oggi primo giorno del corso di formazione per il centro antiviolenza Arterusa. Sant'Arsenio, uno sportello CTG per la creazione di un pacchetto di promozione dell'avvallo di Diano, questa mattina primo tavolo di concertazione. San Pietro al Tanagro, domenica la prima edizione del trofeo Tanagro Baby dedicata alla categoria giovanissimi. Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News, apriamo con la politica, ieri sera incontro pubblico tenuto a Caggiano che ha visto coinvolte le minoranze consigliari rappresentate dalla lista Il Sole e dalla lista incontro, dialogo e partecipazione presente anche il Movimento 5 Stelle. Oggetto della discussione i lavori effettuati in Piazza Lago, ospite dei nostri studi il capogruppo di minoranza del Il Sole, l'architetto Caafaro, ci spiega i motivi per cui è stato realizzato l'incontro ieri sera, cosa è stato detto ai cittadini e del rapporto con la maggioranza guidata dal sindaco Giovanni Caggiano. Abbiamo voluto questo incontro in continuità con l'attività di minoranza svolta in maniera attenta, in maniera molto pure consistente, anche se con i limiti e con i difetti che ognuno di noi ha, dicevo abbiamo voluto questo incontro per informare la popolazione e la cittadinanza su quanto accaduto in merito ai lavori in Piazza Lago. È un tema sentito perché si può facilmente immaginare che i caggianesi hanno avuto stravolto la piazza principale, il loro luogo di incontro. A volte a me è piaciuto sottolineare questa cosa dicendo che in fondo Piazza Lago costituisce l'axis mund dei mundi dei caggianesi. Abbiamo voluto questo incontro appunto, ma ci siamo soffermati non tanto sugli aspetti legati all'architettura, al disegno, al progetto della piazza e sarebbe stato facile criticare oppure porre in evidenza dei difetti di progettazione, sarebbe stato come se, come dire, sparare sulla croce rossa come si suol dire. Però abbiamo voluto invece sottolineare l'aspetto dell'iter burocratico. Abbiamo notato delle notevoli incongruenze rispetto al progetto approvato e rispetto alle opere realizzate. Abbiamo notato una mancanza di concruità appunto tra gli atti iniziali e gli atti finali della progettazione. Questo è quanto. Quindi non abbiamo voluto fossilizzarci su altri aspetti che pure potevano farci comodo come minoranza. La maggioranza si pone nei nostri confronti in modo tale che non possono migliorare i rapporti. C'è un atteggiamento arrogante da presuntuosi, nonostante da parte nostra, e questo lo attestano gli atti, è facilmente soffragato quello che io dico attraverso la documentazione acquisita agli atti. Da parte nostra c'è stata sempre la volontà, l'intenzione di voler collaborare, di voler cercare di risolvere le questioni assieme. Però ci si è trovati di fronte una maggioranza imperniata sulle proprie posizioni e spesso addirittura, come dicevo, arrogante e non desiderosa di aprirsi assolutamente. Andiamo avanti. La Regione Campania ha stanziato 5 milioni di euro finalizzati al finanziamento di progetti di valorizzazione, promozione e restauro di siti di particolare pregio culturale. Entro il 27 luglio bisogna presentare i progetti che devono prevedere eventi e spettacoli, attività culturali, oltre che interventi sui beni e siti culturali oggetti del finanziamento. Si parla molto di sviluppo del territorio attraverso il turismo e la valorizzazione dei beni culturali presenti. Nella Regione Campania è ora giunto l'assist atteso che potrebbe portare fondi importanti per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e alla promozione dei beni e siti culturali della Campania. Il Vallo di Diano, particolarmente ricco da questo punto di vista, non soltanto con la presenza della Certosa di San Lorenzo a Padula, che resta il monumento di maggior peso e interesse dal punto di vista storico-culturale, non soltanto per il territorio ma per l'intera Campania, accanto a siti come la Reggio di Caserta e il Museo di Capodimonte, per l'infinità di arte di cui è custode e con cui è realizzata, sono tantissimi comunque i luoghi di particolare pregio culturale che andrebbero valorizzati e promossi per dar vita ad un'attività turistica redditizia per tutto il territorio. La Regione Campania mostra di puntare in modo particolare sui beni culturali per apportare con lo sviluppo economico atteso. Lo scorso febbraio la Giunta regionale, su iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca, aveva varato il piano operativo complementare per i beni e attività culturali, programmando lo stanziamento di circa 82 milioni di euro per le annualità 2016-2017 nella cornice del piano cultura 2020, considerando così il territorio della Campania un unico grande distretto culturale e turistico. Dopo l'approvazione da parte del Cipe del POC Campania è ora giunto il momento di partire con la programmazione degli interventi. Lo scorso 24 giugno, con decreto dirigenziale numero 236, è stato decretato l'inizio ufficiale, con la pubblicazione sul burca venuta il 27 giugno, dei termini per la presentazione dei progetti finalizzati all'ottenimento dei fondi per favorire attività in grado di valorizzare beni culturali esistenti. Un progetto che, oltre a dare visibilità alle numerose opere di carattere storico-culturale e pregio turistico presenti sul territorio campano, vuole anche offrire opportunità lavorative sui territori interessati dalla presenza di tali siti. Enti, istituzioni, associazioni giovani, enti di ricerca e formazione e tutti i settori produttivi del territorio dovranno infatti, come descritto nello stesso decreto dirigenziale, lavorare in piena sinergia per ottenere il risultato atteso attraverso lo stanziamento dei fondi. La dotazione finanziaria prevista per il progetto di cui il decreto dirigenziale è di 5 milioni di euro totali ed un massimo di 200 mila euro a progetto. La scadenza dei termini è fissata al 29 luglio 2016 e alle ore 13, termine entro cui dovrà essere presentata la documentazione completa, pena l'esclusione. Le proposte progettuali dovranno rappresentare un programma costituito da azioni di valorizzazione e promozione dei beni e siti culturali della Campania, insieme a interventi su beni di valore storico-artistico, architettonico e archeologico, oltre che azioni di promozione e valorizzazione collegate al bene o beni oggetti del progetto. Pertanto ciascuna proposta progettuale dovrà necessariamente comprendere eventi correlati, attività culturali con relativa attività di comunicazione che siano strumento di promozione e conoscenza dei beni culturali oggetto degli interventi del territorio coinvolto, interventi di restauro, conservazione e manutenzione straordinaria, installazioni di dotazioni tecniche, acquisizione di attrezzature o apparecchiature per la valorizzazione dei beni immobili di valore storico-artistico. E la possibilità offerta dalla Regione Campania ha richiamato l'attenzione atteggiano del gruppo Rinnoviamo di Ano, guidato da Rocco Cimino, che sollecita il primo cittadino Michele di Candia e tutta l'amministrazione comunale a mettere a punto, in estrema sintesi e con estrema sollecitudine, un progetto da presentare. Un'opportunità che secondo Rinnoviamo di Ano non può essere persa visti i numerosi siti presenti sul territorio tegianese. La pubblicazione del decreto dirigenziale della Regione Campania per il riconoscimento di finanziamenti destinati a progettualità di valorizzazione dei siti culturali del territorio viene prontamente recepita dal gruppo di minoranza consigliare di Teggiano-Rinnoviamo di Ano, che nella giornata di ieri ha protocollato una lettera di sollecito rivolta al sindaco Michele di Candia e alla sua giunta, affinché si attivino nel più breve tempo possibile per presentare progetti per il reperimento di fondi. Il gruppo di minoranza, capeggiato dall'ex sindaco Rocco Cimino, ha da sempre manifestato grande interesse per la promozione e la valorizzazione della città, che è ricca, come hanno avuto modo di dimostrare, di monumenti e siti di particolare pregio storico architettonico. L'iniziativa della Regione Campania è in gran parte simile al piano di finanziamenti regionali che lo scorso anno garantì la realizzazione dell'evento invernale intorno al presepe, itinerari tra luce e storia, e il restauro dell'antico seggio sito in piazza San Cono. L'impegno della loro amministrazione e le iniziative legate portarono nel centro storico tegianese un gran numero di persone, riuscendo in inverno a creare quel movimento e quell'economia che, seppur non negli stessi numeri, solitamente registrabili in estate. Visti i risultati ottenuti con eventi collegati proprio alla valorizzazione dei siti culturali già adottata nella precedente amministrazione, e in ottica di spirito di collaborazione con la maggioranza, come richiesta dallo stesso sindaco Michele Di Candia in occasione del suo insediamento e come assicurato dal capogruppo di minoranza Rocco Cimino, arriva ora dal gruppo Rinnoviamo Diano la comunicazione con cui viene chiesta alla giunta Di Candia e alla maggioranza di attivarsi il prima possibile per riuscire a presentare un progetto per l'ottenimento dei fondi da parte della Regione Campania. I consiglieri di Rinnoviamo Diano, si legge nella missiva indirizzata a tutto il gruppo di maggioranza, al fine di avviare un percorso volta all'instaurazione di una collaborazione fattiva e al fine anche di tutelare gli interessi dell'intera comunità, pongono all'attenzione l'importante opportunità offerta dallo stanziamento di finanziamenti volte alla promozione dei beni culturali presenti sul territorio. L'ammissiva riporta anche tutti gli estremi del sito e del decreto dirigenziale da cui attingere le informazioni utili per la presentazione dei progetti. Teggiano è tra i comuni più ricchi di beni storico-architettonici e culturali che andrebbero valorizzati e per i quali risultano anche necessari degli interventi di restauro. Attorno a questo patrimonio immenso di storia e cultura potrebbero essere tanti gli eventi e le manifestazioni da realizzare in grado di farli conoscere anche al di fuori del territorio. Ed è proprio riconoscendo il grande valore museale della città e nella consapevolezza che può rappresentare una fonte immensa di economia per l'area, il gruppo Rinnoviamo Diano sollecita l'amministrazione comunale e il sindaco a non perdere questa importantissima opportunità. Una missiva che si spera possa anche essere da stimolo per altre amministrazioni comunali del Vallo di Diano. Restiamo a Teggiano dove l'intervento del gruppo Rinnoviamo Diano, oltre a quanto riguarda i finanziamenti previsti dalla regione Campania, riguardano invece anche la richiesta di procedere con massima urgenza alla ripulitura di alcune aree che sono state soggette ad abbandono indiscriminato di rifiuti. I consiglieri comunali Rocco Cimino, Crescenzio De Paola, Mariana Morello e Velia De Paola questa mattina hanno protocollato la richiesta in cui si legge che a seguito di rubetute e numerose segnalazioni ricevute da parte dei cittadini è stato accertato che in località Martinelle a Pantano di Teggiano esiste un sito che per condotta illecita di gnoti è stato di fatto trasformato in un luogo di scarico, deposito, incontrollato e ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Nella missiva inviata al sindaco di Candia, al comando dei vigili urbani, si richiede l'immediato intervento dell'amministrazione comunale affinché vengano effettuate opportuni accertamenti tesi a verificare se la condotta rappresenta un reato perseguibile ai sensi della legge e adottare quindi tutte le dovute misure in tal senso. Il gruppo allega al documento anche materiale fotografico da cui si evince la quantità dei rifiuti abbandonati. Partiamo, cambiamo argomento, la tutela dell'ambiente, l'enciclica laudato sì di Papa Francesco che è un vero e proprio invito alla tutela dell'ambiente e della terra e il punto da cui si è partiti per organizzare il convegno che si è tenuto ieri pomeriggio presso il Family Center a Polla. Una iniziativa portata avanti da Conf Unisco in collaborazione con la parroccia di San Pietro Apostolo e Benedetto. All'incontro moderato dal giornalista del mattino Antonio Manzo ha preso parte anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Papa Francesco nel parlare della casa comune, il creato, ci pone la prospettiva della centralità della persona, il rispetto del creato e dalla quale è possibile anche concepire una economia inclusiva a misura di ogni persona. Allora salvaguardare l'ambiente, del creato, non è fine a se stesso e non è neanche un'impresa mitica ma è soprattutto una conscientizzazione delle grandi responsabilità e delle risorse che l'ambiente ci offre. La salvaguardia dell'ambiente, della natura, del creato ci spinge a rivedere i nostri stili di vita, ci spinge a ripensare i nostri consumi e anche la crisi economica nella quale siamo immersi è un'occasione, un'opportunità che ci porta anche a ripensare le nostre relazioni con l'ambiente e con il creato. Certamente il punto più importante è quello di fare una riflessione su questi argomenti che ci interessano tutti quanti. Poi è normale che nella riflessione, nel confronto, vengono fuori tante idee, tante proposte che danno la possibilità di dare anche delle risposte molto concrete e quindi di darci soprattutto da fare per poter essere risolutivi nell'affrontare i problemi, sia dal punto di vista religioso ma anche nello stesso tempo sociale, civile e politico. Questa iniziativa l'ha voluta fortemente Don Paolo Lonco, il nostro parroco, perché è un'iniziativa importante discutere di temi dell'enciclida laudato sì di Papa Francesco e abbiamo individuato il tema del lavoro e dell'ambiente. Due cose che oggi sembra non si possono coniugare insieme ma sono due cose che possono tranquillamente camminare insieme perché il lavoro si crea rispettando i parametri dell'ambiente. Quindi l'ambiente e il lavoro creano sviluppo, creano lavoro, lo creano se al centro di queste due cose ci sta il rispetto della vita umana, il rispetto dell'uomo, la dignità dell'uomo. Se rispettiamo questi il lavoro lo si crea, lo si crea anche rispettando l'ambiente in questo territorio che se ne parla tanto ma come dire sono tante voci ma fatti concreti ne vediamo poco. Noi ci proponiamo oggi, abbiamo la fortuna di farlo insieme alla Chiesa, insieme alle istituzioni per un progetto serio di sviluppo compatibile. L'iniziativa di stasera è di grande rilievo ed è anche di grande spessore oltre che di motivazioni molto profonde. La Chiesa del Vallo di Diano insieme a benemeriti e associazioni di volontariato stanno mettendo in campo questa riflessione che parte dalla laudato sì di Papa Francesco sulla tutela del creato come casa comune e coinvolge una riflessione che la Chiesa ha dato al mondo anche nei due sinodi sulla famiglia. Ormai è considerata la Chiesa nel mondo una delle poche se non l'unica agenzia di senso che mette a discutere l'uomo sul suo destino e l'umanità sulla sua prospettiva. L'intervento di questo convegno stasera è di rilevanza perché nella periferia, secondo me ingiustamente considerata lontana ma spesso ricca di iniziative di spessore, si consumano queste riflessioni che aprono il cuore alla speranza e aprono anche le intelligenze, soprattutto quelle dei giovani ad appropriarsi del loro destino tutelando la casa comune che è il creato. In tutti i suoi aspetti l'economia, l'ambiente, la laudato sì non è soltanto una enciclica ambientalista, è una enciclica che dà la prospettiva al mondo di tutelare la casa comune, cioè laddove tutti i componenti, tutta l'umanità è costretta a vivere e deve adeguarsi a questa casa. Cambiamo decisamente argomento, tremano i cittadini della Campania perché l'Agenzia delle Entrate ha inviato a più di 7 mila cittadini dei cosiddette cartelle perché sono state riscontrate delle anomalie nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2013. Sembrano arrivare brutte notizie dall'Agenzia delle Entrate, in Campania partiranno a breve più di 7 mila avvisi per quei cittadini che risulta abbiano commesso degli errori nella dichiarazione dei redditi. Si prevede che 1.553 saranno le comunicazioni destinate ai cittadini di Salerno e provincia. Si tratta di anomalie riscontrate nei modelli unico o 730. In base ai dati in possesso dell'Agenzia, nella dichiarazione presentata nel 2013 sembrerebbero non dichiarate alcuni redditi che non avrebbero quindi concorso alla formazione dell'imponibile. Ricevuta la lettera, il destinatario non dovrà fare altro che controllare se i suoi documenti sono in ordine. Se gli errori evidenziati dall'Agenzia esistono, il cittadino presenterà una dichiarazione integrativa, sfruttando quindi l'istituto del rabbedimento operoso e pagherà la differenza con una sanzione ridotta attraverso il nuovo meccanismo agevolato. Per effettuare il pagamento occorre indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla comunicazione. Qualora invece il contribuente ritenesse che le informazioni da lui fornite siano esatte e che non vi siano anomalie da correggere, può contattare l'Agenzia delle Entrate, anche per evitare che in futuro si possano ripetere errori del genere. A differenza del passato arriveranno dunque questi avvisi per informare i cittadini di possibili errori o dimenticanze e non si fa partire subito l'avviso di accertamento. L'invio delle lettere riguarda l'intera regione e continuerà a settembre dopo la pausa estiva per un totale di 7361 segnalazioni. Andiamo avanti al via ufficialmente oggi il progetto Cilento Blue Club, il sistema integrato di collegamenti destinato ai turisti che possono così raggiungere facilmente le località turistiche del Cilento, del Valodidiano ma anche di tutta la costa campana. Un sistema di mobilità integrato via mare ma anche via ferro con la presentazione ufficiale che è avvenuta martedì scorso al porto di Capri alla presenza del governatore Vincenzo De Luca. Oggi parte ufficialmente il progetto Cilento Blue Club finanziato con fondi regionali e del MIBACT che mette in campo un sistema integrato di trasporto via ferro e via mare per garantire al turista l'opportunità di avere dei collegamenti da Salerno ai porti della costa cilentana e di effettuare escursioni dal Cilento alla costa amalfitana, all'isola di Capri, alle città di Napoli e Salerno. Una mobilità articolata che prevede l'attivazione di un treno regionale denominato Cilento Blue Express gestito da Trenitalia e la mobilità anche attraverso il nuovo trasporto viaggiatori e l'Italobus che collega le località del Cilento e del Valodidiano. Il servizio via mare invece è affidato ad Alicos ed è effettuato con navi veloci Cilento e mette in collegamento nove porti della costa regionale Napoli-Beverello, Capri, Positano, San Marco di Castellabate, Ceroli, Marina di Casalvelino, Palinuro, Milalina di Camerota e Sapri. Martedì scorso al porto di Capri l'inaugurazione del servizio alla presenza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Oggi presentiamo un servizio interessante di trasporto via mare ma di trasporto integrato perché integra l'alta velocità con il trasporto via mare che consente di collegare Napoli, Salerno, alle costiere, alle isole e al Cilento. Mobilità, una cultura dell'accoglienza, un sistema ricettivo adeguato ad ospitare milioni di nuovi turisti e poi una valorizzazione piena dei diversi capitoli di uno sviluppo turistico possibile in Campania. Con una particolare attenzione al capitolo del turismo religioso che non abbiamo mai valorizzato. Pensate che solo Pompei, e Pompei offre una platea di centinaia di migliaia di turisti, di fedeli che arrivano ogni anno. San Gerardo a Caposere ospita ogni anno 800.000 turisti. Pompei, San Gerardo, Pietrelcina, Padre Pio, la Madonna dell'Arco e poi il tesoro di San Gennaro, a Cripta di San Matteo, abbiamo cose straordinarie che inserite in un progetto turistico organico possono davvero far decollare un'intera economia nella nostra regione. Andiamo ora ad Atena Lucchiana dove si è svolto oggi il primo giorno del corso di formazione per reperire personale per il centro antiviolenza a Retusa. È stato possibile grazie alla collaborazione dell'Associazione Differenza Donna e del Piano Sociale di Zona. L'Associazione Differenza Donna e il Piano Sociale di Zona S10 collaborano per l'implementazione dei servizi antiviolenza. Inizia oggi il corso di formazione sulla violenza maschile contro le donne che è finalizzato al reperimento di personale remunerato e volontario per il centro antiviolenza a Retusa che opererà nel contrasto al fenomeno. L'iscrizione è aperta a tutte le donne diplomate e laureate senza limiti di età. È previsto inoltre uno stage minimo di una settimana presso i centri antiviolenza di Roma gestiti da Differenza Donna. Si è partiti dunque questa mattina con la prima giornata dedicata nel primo modulo a presentare gli obiettivi del corso, definire la violenza maschile contro le donne e fornire dati empirici al riguardo, parlare del fenomeno a livello nazionale e internazionale, indagare gli stereotipi e i pregiudizi che lo circondano e infine descrivere le modalità di accoglienza e intervento in caso di violenza. A relazionare Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, è Rosalba Taddeini, psicologa e criminologa. Nel pomeriggio invece il secondo modulo è dedicato solo alle operatrici e alle volontarie ed è un workshop esperienziale sull'accoglienza e sui casi. Le altre date sono l'8, il 15 e il 22 luglio. Il corso, in tutte le sue tappe, cercherà di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi per lavorare nell'ambito del sostegno alle vittime di violenza, del rapporto con le istituzioni, dell'elaborazione dei dati ma anche del lavoro di sensibilizzazione. Attraverso gli argomenti trattati lo scopo è rispondere ai bisogni che emergono in relazione a questa nuova forma di schiavitù, conoscere i diversi meccanismi della violenza, i modi per contrastarla e per affrontare le relative criticità. Di indagare quindi tutti i possibili percorsi. Seconda parte dell'edizione serale delle Uno News. Apriamo da Sant'Arsenio dove questa mattina presso la Sala Cultura della Banca Montepruno si è tenuto un incontro programmativo per dare vita ad una collaborazione tra cittadini, associazioni, enti e istituzioni al fine di realizzare un progetto di valorizzazione del Vallo Lidiano che comprenda tutti i settori merceologici dell'area. L'iniziativa è stata portata avanti da diversi mesi, dal Centro Turistico Giovanile di Scottè a Salerno con Barbara Kornfeld che ha trovato subito una sponda nella Banca Montepruno che sostiene l'iniziativa la quale di fatti rientra in quella che è la mission dell'Istituto di Credito Diretto da Michele Albanese, ovvero quello di essere vicino e collaborare al fine di valorizzare tutto il territorio. Ai nostri microfoni ascoltiamo ora le parole di Antonio Mastrandrea, responsabile della comunicazione della Banca Montepruno e Barbara Kornfeld, promotrice dell'iniziativa che invece spiega il progetto. Sicuramente è uno stimolo stamattina, è un ulteriore seme che noi come banca lanciamo sul territorio su di un argomento fondamentale che è il turismo. Non si può fare turismo senza fare rete. Stamattina grazie al CTG siamo proprio qui per creare delle condizioni, per lanciare un ulteriore piccolo seme sul nostro territorio. La Banca Montepruno è notoria come da tempo oramai cerca di mettere in piedi questo tipo di collaborazioni che devono nascere proprio dei protagonisti del territorio. Quindi stamattina abbiamo amministratori, abbiamo imprenditori, abbiamo gente che lavora nel settore del turismo, della ristorazione. Questo non può che renderci soddisfatti dell'evento. Il CTG ha voluto tenerlo presso la nostra struttura proprio per dare anche un segnale ancora più ampio al territorio perché stamattina sarà un tavolo di concertazione aperto, sarà una riunione quindi dove tutti potranno dare il loro contributo ed è importante che tutti lo diano perché solo attraverso questo meccanismo di condivisione, di collaborazione e quindi di rete come professiamo sempre si possono raggiungere degli obiettivi. Sono 20 mesi che sto lavorando nel Valoddiano con iniziative che possono essere borse di studio gratuite per individuare gli elementi umani eccellenti che possano portare avanti i discorsi di rete, CTG che è comunque una rete nazionale, un turismo sostenibile sia per chi lo fa che per chi lo riceve. Io mi sono trovata a interloquire in questo territorio con vecchietti che mi dicevano io amo la mia terra però non so come trasmettere questo amore nei giovani e sono diventati in questi 20 mesi i più attivi, cioè quando io ho qualcosa da comunicare sia ai giovani che alle istituzioni si muovono, li vanno a chiamare, gli spiegano se io non li riesco a rintracciare al telefono perché spesso mi trovo questo problema, mi spengono i telefoni gli interlocutori e voglio dire io di solito quando ho da parlare anche soprattutto a livello istituzionale sono sempre io, non utilizzo nessuna delle ragazze o dei ragazzi che si stanno formando con me perché io sono una che non si scoraggia però se un giovane del territorio lo metti a chiamare un amministratore e quell'amministratore si nega, voglio dire è qualcuno per fortuna, la maggior parte sono presenti, partecipi, molto interessati ma mi capita con qualcuno che non riesco a rintracciarlo al telefono, non mi risponde alle mail, non mi risponde da whatsapp, non mi risponde da messenger cioè tutte le forme di comunicazione che posso utilizzare si negano, se lo facessi fare a uno qualunque dei ragazzi del territorio che abbiamo formato anche all'ottimismo a non dire vabbè qua tanto non c'è niente, qua non ci danno niente, queste sono le affermazioni ricorrenti, io gli avrei già distrutto tutto quell'ottimismo, quindi me ne faccio carico io come vertice di un'operazione e non mi preoccupo più di tanto. L'incontro di oggi è anche un po' fare un discorso di questi siamo, siamo quelli interessati ad andare avanti, a passare alla fase operativa anche perché a ottobre qui ci sarà una convention di quattro giorni dove i nostri presidenti nazionali che vengono a fare scuola, cioè il fondamento nostro del CTG è anche che io presidente, diverse volte l'anno vado a scambiarmi le mie esperienze con gli altri presidenti, soprattutto quelli dove il turismo CTG dà lavoro ai residenti e facciamo appunto questo, cioè il loro ottobre verranno a fare scuola e metà della giornata a fare visita ai territori, quindi l'intenzione mia è che non sia un evento bello ma è anche quella della dirigenza nazionale ma che muore con il mese di fine ottobre, inizio novembre, cioè vorrei che ce la giocassimo veramente in termini di moltiplicatore economico, creazione d'indotto eccetera eccetera, le cose che poi si dicono sempre, le dicono tutti, tutti quelli che vogliono attrarre gli altri, però in concreto il meccanismo di come far funzionare questa cosa, però questo non si traduce poi nella possibilità di vivere e lavorare nel proprio territorio, questo è il problema che cerchiamo di sciogliere con l'aiuto dei locali perché senza i locali noi non andiamo da nessuna parte, nel senso che non siamo noi che dobbiamo fare gli attrattori, noi dobbiamo dare un metodo secondo me. Ora la cultura, ieri sera a Polla si è tenuta la presentazione dell'ultimo libro di Massimiliano Amato, il giornalista che ha scritto l'altra trattativa, che parla della trattativa tra lo Stato e la Camorra che avrebbe dovuto portare alla resa incondizionata di oltre i 5 mila tra boss e gregari della malavita. Una trattativa che però fallì, a seguire per noi la presentazione del testo c'era Pietro Cusati. Io racconto una vicenda che risale al tempo in cui il senatore Mancino, il presidente Mancino, anzi perché poi è stato anche presidente del Senato, poi vicepresidente del CSM, era ministro dell'interno. La vicenda è quella della trattativa che un coraggioso sacerdote napoletano, il bescovo di Acerra, Monsignor Antonio Riboldi, cercò di innescare tra un gruppo di camorristi che aveva intenzione di prendere le distanze dal crimine e le istituzioni. Una trattativa che non andò a buon fine. Io la ricostruisco anche per trarre questa vicenda dall'oblio in cui è finita, schiacciata e oscurata dalla trattativa quella più importante, quella che ci fu tra lo Stato e Cosa Nostra a Palermo e dalla quale poi è scaturito anche un processo nel quale peraltro il senatore Mancino è imputato, come sappiamo, per falsa testimonianza. Questa trattativa minore napoletana campana andò avanti per un po' di tempo. Se ne fecero carico, oltre a Don Riboldi, un avvocato napoletano, Saverio Senese, che difendeva Angelo Moccia. Angelo Moccia era di fatto in quel momento il numero 3 della camorra campana e bisogna considerare che il numero 1 e il numero 2, cioè Carmine Alfieri e Pasquale Galasso, erano già passati dall'altra parte della barricata, cioè si erano pentiti. Lo Stato che in quel momento viveva un periodo molto delicato perché le maggiori istituzioni erano sotto il tiro della magistratura, ricordiamoci Tangentopoli, ricordiamoci anche le grandi inchieste di mafia e di camorra, lo Stato in quel momento era probabilmente nel momento di massima debolezza, era al punto di massima debolezza e non seppe o non volle raccogliere questa provocazione portata avanti da Monsignor Riboldi e dall'avvocato senese e dire che c'erano, secondo quello che sosteneva il Monsignor Riboldi, ben 5.000 camorristi che erano pronti a deporre le armi. Tratta di uno dei periodi più delicati della storia italiana. È un libro molto interessante perché aiuta a comprendere una delle fasi più delicate della storia italiana, quel periodo che chiamiamo di transizione, di passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica. Un periodo di crisi, un periodo di instabilità caratterizzato a livello nazionale, soprattutto dalle indagini di Tangentopoli, dal pool manipulite, ma che al Sud, e questo è il merito principale di Massimiliano Amato, al Sud e soprattutto in Campania, è caratterizzata da questo tentativo di infliggere alla Camorra in particolare un colpo mortale. Quella occasione viene drammaticamente persa e purtroppo questa trattativa fallisce. Comprendere i motivi di quel fallimento probabilmente aiuta a capire anche molto del nostro presente e della situazione attuale. Una tua opinione su questo libro? Il libro è di un giornalista che conosce bene la storia, che sa scrivere molto bene, che sa raccontare i fatti, ma li sa interpretare e analizzare. È un bel libro, vale la pena leggerlo. Che cosa ti ha colpito in questo libro? In particolare la trattativa perché fallite, secondo te? Probabilmente perché non c'era nessuna possibilità di farla. E il ruolo di Don Ribold? Un tentativo, forse un po' veleitario. Ed ora lo sport in attesa della Gran Fondo del Tanagro in programma il prossimo 10 luglio. Si anticipa domenica 3 luglio il trofeo Tanagro Baby destinato e dedicato alle categorie giovanissimi. In vista del più importante appuntamento della Gran Fondo del Tanagro in programma domenica 10 luglio, domenica prossima 3 luglio a San Pietro al Tanagro si terrà il trofeo Tanagro Baby. Una novità assoluta nella chermesse messa in piedi dal ciclo team Tanagro. I ragazzi della categoria giovanissimi si ritroveranno alle 8.30 mentre la partenza è fissata alle 9.45. A prendere parte al trofeo saranno i bambini dai 7 ai 12 anni regolarmente tesserati per la Federazione Ciclistica Italiana. I mini corridori si daranno battaglia lungo il circuito cittadino di un chilometro da ripetere più volte a seconda della fascia d'età alla quale appartengono. Tra una gara e l'altra i giovani atleti provenienti da Campania, Basilicata, Puglia e Calabria potranno concedersi momenti di svago all'interno del parco giochi allestito in piazza Enrico 40 da Barbilandia Park di Polla. Spazio anche ad uno stand che esporrà materiale tecnico e abbigliamento per ciclisti. Il trofeo Tanagro Baby, istituito con l'intenzione di stabilire uno stretto legame tra attività giovanile e ciclismo motoriale, precede di una settimana l'appuntamento più importante della stagione dell'Associazione Valdianese, la terza edizione della Gran Fondo del Tanagro, memoria alla Macapane Pasquale Priore Franca. Un appuntamento che a giudicare dal numero degli iscritti finora pervenuti ha conquistato nuovamente il cuore dei ciclo amatori di tutta Italia, richiamati anzitutto dal fascino che la nostra terra dona immancabilmente ai propri ospiti. Con questo servizio si chiude l'edizione serale delle Uno News. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.